La ricezione di Davi Schiba, Zimmerman per Galassi, angola verso posto 5. Ricezione di Davi Schiba che poi va ad attaccare in sacca. La battuta ricezione di Davi Schiba sulla testa è Zimmerman. Zimmerman per Marra. Ricezione di Marra sulla battuta di Van Gardner, Zimmerman dietro per Grozer, di potenza, va a sfondare il muro. Ricezione addirittura di Galassi, Zimmerman indietro per Marra, in diagonale dai 9 metri. La ricezione di Marra, Zimmerman per Davi Schiba, tempo per calibrare il colpo. La gara, fatto il Grozer dei tempi migliori, qui Zimmerman pulisce tutto a rete. Ancora con una slash, la ricezione che rimanda la palla al capo di Monza, Zimmerman a prepartita e si mette proprio.